Il Brindisi ottiene la prima vittoria in campionato su uno dei campi più difficili, lo stadio Pinto di Caserta contro la Casertana di Enzo Maiuri. Il tecnico manda in campo Cervellera, Falivene Romano, Silvestro, Cordic, Badie, Galdian, Esposito, Bubalo, Spinelli e Moi. Maiuri risponde con Trapani, Pambianchi di Somma, Vacca, Visente, Fellega, Manzur, Liccardi, Monti, Tufano, Maresca. Primo quarto d'ora di gioco di studio, nessuna delle due formazioni affonda in maniera decisa. Al ventesimo, incursione di Badie, la palla però gli rimane un po' indietro, occasione sprecata per i bianco-azzurri. La risposta dei padroni di casa arriva al ventunesimo, Fellega ci prova con un tiro da fuori che fa la barba al palo, si resta sullo 0-0. 35esimo, il Brindisi si porta in vantaggio, ripartenza degli ospiti, Badie anticipa Trapani in uscita e Cordici a porta vuota, segna 1-0. 42esimo, Visente ci prova dalla distanza, fuori di molto la sua conclusione. Palla buona per il raddoppio degli ospiti al 43esimo, ci prova Silvestro, da buona posizione respinge però la difesa dei falchetti. Si chiude così la prima frazione con il Brindisi in vantaggio. Al primo minuto della ripresa c'è una sostituzione, entra Rechic al posto di Badie, acciaccato. Occasione per il pareggio per la Casertana, al sesto minuto non libera la difesa del Brindisi, ne approfitta Fellega che tutto solo tira ma non inquadra la porta. Episodio decisivo al decimo, si becca il cartellino giallo Maresca per la seconda volta, proteste per lui dopo un fallo ai danni di Falivene, padroni di casa che restano in 10. Tredicesimo minuto, ripartenza del Brindisi, Cordici pesca, Bubalo, la sua conclusione però si stampa sul palo. Passa un minuto, doppia occasione per il Brindisi, senza fortuna però. Ventisesimo, cross di Rechic e Bubalo non trova la deviazione giusta per il 2-0. Raddoppio che però arriva proprio con il Croato al 32esimo che è tempestivo nel mettere in porta una corta respinta di Trapani su un tiro dalla distanza. 2-0 e il Brindisi controlla, così la gara. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio, storica vittoria del Brindisi in questo campionato che spugna lo stadio pinto di Caserta e si rilancia in classifica. Resta ancora l'ultimo posto ma le speranze di risalita adesso sono più concrete.